Buongiorno, ben notizia di Abruzzo, siamo a Pescara in compagnia di Luciano D'Angelo, fotografo, pluripremiato, un grande professionista per National Geographic, adesso impegnato in una prossima mostra che è dal titolo L'altro Abruzzo. Ce ne può parlare? L'altro Abruzzo è un progetto che nasce un po' da lontano, circa 3-4 anni fa io pensai di fare un lavoro su un Abruzzo nascosto, un Abruzzo che molte volte le persone comuni o addirittura i turisti un po' distratti, consumistici e ormai abituati a fare solo self, non possono vedere o non vogliono vedere. Quindi ho pensato di raccontare questa regione che è una regione dei parchi, non attraverso le icone più conosciute, ma bensì attraverso dei personaggi, quindi una sorta di story tells di 21 personaggi che fanno mestieri più disparati o addirittura mestieri in via di estizione. Bene, che cosa ne è uscito fuori? Insomma alcuni aspetti antropologici, umani, sociologici, economici? La cosa più interessante intanto è scoprire veramente la dignità di una regione quale è l'Abruzzo, che Flaiano ha sempre raccontato in una maniera ammirabile, perché sono persone molto 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 timide, ma soprattutto abituate a fare, a produrre, senza chiedere nulla a nessuno. Quindi questa ricerca è stata veramente interessantissima. Ne è uscito la pubblicazione di un libro con una prefazione del professor Lello Piazza, fotoeditor di Airone per 30 anni, e nel libro si trova anche una sorta di intervista che il collega Claudio Valente fa a me spiegando le ragioni che mi hanno indotto a mettere in atto questo progetto. Sarà prevista una mostra definitiva dal 12 di aprile presso i locali dell'Avrum. Bene, qual è il suo auspicio? Il mio auspicio è che le persone che visiteranno la mostra riusciranno anche a comprendere che le cose più vere sono quelle nascoste, perché in un momento in cui c'è un forte consumismo delle immagini, è un consumismo, il mio non è un atteggiamento critico, è assolutamente semplicemente una presa di coscienza. Allora sarebbe molto bello che scoprissero anche delle vere ricchezze di questa regione, che sono gli uomini. Bene, ringraziamo Luciano D'Angelo e la sua mostra che si terrà, lo possiamo ripetere? Dal 12 di aprile al 15 di maggio presso i locali dell'Avrum. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi.